Buongiorno! Sono molto felice che siete qui! Benvenuti in Italia! Normalmente, in questa parte dell'anno, sono venuti negli U.S. e parliamo insieme sui telescopi e su come migliorare la vostra fotografia. Questo anno, vieni a casa mia quindi voglio mostrarvi come ho usato il mio telescopio con tutti i dispositivi Prima Luce Lab per fare la migliore fotografia! Quali sono i telescopi? Ho un telescopio celestrone su un montaggio di scuola e sai che l'Italia è davvero più piccola che negli U.S. e qui la portabilità è un fattore molto importante. Le caratteristiche sono molto più piccoli che la vostra e, da che ciò che spostiamo in search for low light pollution ho dovuto avere un telescopio che può fitter anche su una cinquecento di caratteristiche. Uno dei fattori principali per una immaginazione successiva è il focus e è per questo che abbiamo sviluppato il nostro ESATTO il nostro micro focuser che ho usato sul mio telescopio HD per farmi controllare il focus e il refocus durante l'acquisizione con il mirare principale in questo modo evitando alcun cambiamento e senza l'utilizzo dell'interno del focuser Il ESATTO è un focuser completo motorizzato con una capacità molto alta e una risoluzione incredibile di 0.04 microns per step connessione USB e anche controllo wifi viene anche con un iPad virtual quindi puoi controllarlo dal tuo smartphone anche senza un computer se vuoi ma se hai già un focuser buona qualità come i quelli comuni trovati sui refractori puoi installare il nostro Sesto Senso Focusing Motor e avere la stessa cosa avanzata del ESATTO sul tuo focuser oh come on give me back my ESATTO take a look at this great Borg astrograph with the larger ESATTO 3 inches I said give me back my telescope and you know what? many years ago we understood that all the technology that are mostly related to astrophotography had a critical aspect you were expected to control all of this with the same computer you were using to work, study, surf the web or read emails and it was strange since the control computer is the brain of the entire telescope and it was the only not specialized part of it so we decided to create the first computer specifically designed for astrophotography the Eagle the Eagle is a powerful Windows computer that replaces a standard laptop you can install it on your telescope thanks to the special plus case the Eagle allows you to remotely control and power all the devices that you can use in astrophotography without any limitation because it runs Windows so instead of installing your preferred device and astrophotography softwares on your laptop and trying to figure out how to connect all the devices with long cables you have your computer on the telescope and you connect everything to it with very short cables and you can still use your preferred astrophotography software the Eagle works like a router it creates its own Wi-Fi network so you can connect to the Eagle Wi-Fi any other computer, tablet or even smartphone and you can remotely see what's going on in the Eagle start your software, control your devices and enjoy more your astrophotography and the Eagle is much more than a computer in fact it comes with four 12V power out port to power camera mount, focuser, filter wheel or other accessories and three dew heater ports that allows you to control power of the dew heaters without the need of an external controller this way you can power all your devices through the Eagle reducing the number and length of cables and you will have only one power in cable that can go either to a 12V battery or an AC adapter while all the rest of the cables are on the telescope this way when the telescope moves all the cables, both power and data move together with it and this fixes all the problem related to cable management well, that's all for now my friends and I hope you enjoyed my presentation here from Italy see you soon at the next NIF Clear skies!